Segretario, la presentazione delle liste ha provocato tensioni e polemiche per le esclusioni eccellenti. Renzi ha scelto solo i fedelissimi? No, abbiamo scelto solo i migliori. O quelli che noi pensiamo che siano i migliori. Paolo Siani, un dottore, pediatra, primario a Napoli che lotta contro la povertà educativa, cioè per i diritti dei bambini, di tutti i bambini. Lucia Annibali a Parma, in prima fila nella lotta contro la violenza sulle donne. E tanti altri nomi. Certo, qualcuno purtroppo ha dovuto lasciare il posto. Però è anche vero che in politica il ricambio è, o dovrebbe essere, normale. Insomma, se c'è qualche faccia nuova nei palazzi, capisco le polemiche, ma è un bene. Dunque, stop alle discussioni, parliamo dei progetti, delle idee e andiamo avanti.